La cura è dedicata ai rapporti con le associazioni che operano per il contrasto del racket e dell'usura allo scopo di sensibilizzare le vittime e incrementare la collaborazione finalizzata all'emersione del fenomeno e alla denuncia dei responsabili di queste odiose forme di reato. Nella consapevolezza di dover affrontare alla radice le cause del disagio socio-economico il programma operativo nazionale Legalità 2014 e seguenti di competenza del Ministero dell'Interno contempla apposite linee di intervento sia di natura sistemica a supporto dell'economia legale per aumentare la capacità di resistenza alla pressione criminale sia interventi puntuali a carattere sperimentale per agevolare e rafforzare le reti territoriali che si oppongono all'immobilismo e al degrado volute e prodotti dall'organizzazione criminale. Analoghe misure di sostegno sono presenti nelle programmazioni nazionali a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Lavoro, delle politiche sociali queste ultime contenute nel PON Iniziativa Occupazione Giovani e nel PON Inclusione. Grazie Presidente. La ringrazio Onorevole Figo. Ho difficoltà di dichiarare se si è soddisfatto della risposta. Prego. Grazie Presidente. Purtroppo non sono soddisfatto e non sono soddisfatto perché abbiamo sentito un elenco di attività che appunto sono poi esclusivamente un elenco. Perché se si va sul territorio tutte le associazioni, le cooperative, i preti, ma anche le autorità locali lamentano che manca l'aiuto dello Stato. Una pianificazione seria, strutturale. Perché ok, perfetto l'elenco, magari sono stati spesi quei fondi, ma abbiamo un risultato poi reale. Abbiamo il modo di monitorare la spesa dei fondi o i piani di cui Lecce ha elencato. Che risultati reali hanno portato sul territorio? Perché io non vivo in un altro pianeta e quando parlo con tutte queste persone o vado in questi quartieri che sono anche i miei quartieri, essendo di Napoli, tutti mi dicono esattamente il contrario. Allora non è possibile che qui, in quest'Aula, alla Camera dei Deputati, dai banchi del Governo, ci si racconti una storia. E poi sul territorio la storia è esattamente un'altra. E questa discrepanza totale tra ciò che si dice, tra i fogli che si leggono e ciò che alla fine è sul territorio, è intollerabile. E allora quello che chiedo io, chiediamo noi e che chiede tutta Napoli è un'assunzione vera di responsabilità. I risultati delle forze dell'ordine che lei ci ha elencato noi li conosciamo. Sappiamo benissimo che le forze dell'ordine fanno in tutti i modi il proprio lavoro, ma sono proprio le forze dell'ordine che lamentano la mancanza dello Stato, la mancanza di fondi, la mancanza di una vera organizzazione, la mancanza di uffici, la mancanza di stampanti, la mancanza di qualsiasi fattore normale per portare avanti un lavoro difficile che va dalla prevenzione sul territorio fino al lavoro di intelligence. Questa è la Polizia. Poi la magistratura lamenta lo stesso, lamenta che le leggi dello Stato sembrano a volte andare contro i magistrati invece che contro la criminalità. E allora che tipo di prevenzione noi vogliamo fare? Che tipo di lotta vogliamo fare? Sappiamo benissimo che ci sono le piazze di spaccio, sappiamo benissimo che oggi l'età delle persone che delinquono si è abbassata e che sono molto più violenti, anche perché si fa uso delle sostanze stupefacenti che magari si vendono. E allora? E allora? E allora quanto siamo lontani, lo voglio ribadire, qui dentro dal funerale che si è tenuto questa mattina in piazza Sanità. Voglio sapere quanto siamo lontani, quanto lo sentiamo, quanto è vicino a noi, quanto siamo indignati, quanto abbiamo voglia di lottare, quanta? E se c'è la voglia di lottare? Io mi chiedo, sottosegretario, lei ha voglia di lottare? Ha voglia di cambiare le cose? Ha voglia di vedere un mondo diverso quando si arriva a Napoli o in altre città? Perché se questa voglia non ce l'ha, a me sembra scocciato quasi nel leggere un foglio. Mi sembra che non ci sia l'anima per fare le cose, la forza, l'indignazione, perché è troppo facile essere scollati in questo palazzo dalla realtà che tutti i cittadini vivono ogni giorno. E questo è il grande cambiamento che dobbiamo riuscire ad attuare. Che questo palazzo, che le parole che diciamo non siano parole vuote, ma siano parole forti, che siano le parole guerriere e che siano in nome dei cittadini italiani tutti, dal sud, dal centro al nord, dei quartieri disagiati o no. Allora io mi chiedo la forza, la voglia, la volontà, la mentalità di affrontare questi problemi. C'è in tanti ragazzi che facciano i poliziotti o che lavorano nelle cooperative. Questa mentalità la vedo, la sento, gliela leggo negli occhi ed è fortissima, ed è fortissima. È di una mentalità che leggo anche, e lo dico, nelle persone del Movimento 5 Stelle, forse perché è la prima legislatura, forse perché non siamo abituati a stare da tanto tempo in questo palazzo. E allora forse il fuoco dentro non si è ancora spento e dobbiamo riuscire ad alimentarlo, questo fuoco, questa passione, questa voglia, questa voglia di cambiamento. Noi la vogliamo davvero attuare. E vi stiamo chiedendo di attuarla anche voi, stiamo chiedendo al vostro Ministero, alla vostra Presidenza del Consiglio di fare azioni concrete, non un elenco di dati che poi non portano a niente. Quando è che monitorerete davvero i risultati? E allora se oggi tutti, da quella piazza alla sanità, a partire da padre Alex Danotelli, hanno gridato l'assenza dello Stato, hanno detto siamo soli, perché troppe volte hanno chiesto aiuto e troppe volte questo aiuto non è arrivato, troppe volte questo aiuto non è arrivato, oggi si è gridato e siamo soli, siamo soli. E allora io domani mattina che cosa faccio? Se vado alla sanità vorrei vedere una sanità già diversa, con la presenza dello Stato, 24 ore su 24, e si può fare, buttiamo soldi per ogni cretinaggine, per ogni cretinaggine, invece di andare sulle cose serie. E allora lei se la sente, insieme a tutta la politica del Ministero, di prendersi questa grande responsabilità, perché se lei è seduta in quella poltrona la deve prendere per forza, perché se non ha senso che lei sia seduta là. E allora ci riusciamo? Io purtroppo, sapendo anche chi è il Ministro Alfano, sapendo come si è lavorato in questi due anni, non ci credo, però credo che possiamo avere e fare una grande mobilitazione popolare, una grande mobilitazione di idee per dire ora basta, è una linea di demarcazione e oggi la passiamo e risolviamo definitivamente questa questione. E voi dovrete essere costretti a risolverla dalle persone. Perché se inizia un cambiamento nelle persone, voi sarete costretti a cambiare. Non potete più rimanere fermi su voi stessi, chiusi in voi stessi, con fogli, numeri, dati che non rappresentano poi la realtà. Fogli, numeri e dati che non rappresentano la realtà. E allora io lo sento, lo vedo, questo Banco del Governo, quanto è lontano dal funerale di questa mattina, quanto è lontano dalle piazze dove avvengono queste tragedie. Io lo so perché conosco bene la mia città, conosco bene la sensazione nel camminare alla sanità o nel camminare in tutti i quartieri di Napoli. Conosco bene l'aria, conosco bene l'atmosfera, conosco bene il rumore dei motorini che sfrecciano alle spalle in grande quantità. Conosco gli sguardi delle persone, conosco le antichità della mia città, conosco anche la bellezza e la voglia delle persone di reagire, la voglia delle persone di fare cose belle, cose belle. C'è una voglia di bellezza. E questa è la voglia che Napoli ha. E questa è la voglia che un quartiere come la sanità ha. E questo è scritto nelle viscere della nostra città. E allora bisogna da quel fuoco avere la dignità di rispettare questo fuoco e dargli spazio e riuscire a proteggere chi vuole lavorare nella normalità nella nostra città e reprimere chi non lo vuole fare. E dobbiamo agire ad ampio raggio, ad ampio spettro. Lo ripeto, con più scuole, con più asili nido, con più cultura, cinema, teatro, musica. Dobbiamo riuscire a lavorare in questo modo. Io termino qui questo intervento e non sono assolutamente soddisfatto. Io lo so che non sarà soddisfatta la magistratura di 50 uomini in più e non sarà soddisfatta la polizia di 50 uomini in più. Sarà soddisfatto solamente Alfano, che oggi ha rilasciato un'intervista sul mattino, dicendo cose che secondo me non hanno alcun senso perché non corrispondono alla realtà. Prima o poi la finirete di scrivere comunicati stampa dicendo che si sta risolvendo la situazione o che si sta procedendo a risolvere la situazione, perché poi siamo punte da capo. Il comunicato stampa su alto impatto era già stato fatto mesi fa e non è successo niente, assolutamente niente. E quegli arresti si sarebbero fatti lo stesso anche senza l'operazione alto impatto. Quindi io voglio che non ci raccontiamo frottole, che non ci raccontiamo balle e che i dati e i numeri che voi date sono un po' senza senso perché non corrispondono alla realtà. Noi dobbiamo sconfiggere la realtà, non dobbiamo fare una comunicazione inutile e ingannevole a tutti i cittadini, a partire dai quartieri disagiati. Passiamo all'interpellanza urgente 2.1.0.3.4 dei deputati Morassut e Cizia Fontana, concernente le iniziative a tutela dei nuclei familiari disagiati interessati dalle procedure di sfratto per finita locazione. Onorevole Morassut, la illustra. Prego. Grazie Presidente. Sarà un'illustrazione breve, ma questa interpellanza era stata presentata prima della pausa estiva perché il 30 giugno sostanzialmente scadevano i termini del provvedimento non di proroga degli sfratti, ma i termini entro i quali si sarebbe potuto utilizzare del tempo per affrontare...